Il cellulare ancora spento e lei ancora irrintracciabile, scomparsa nel nulla. Ancora nessuna traccia della 60enne, figlia della donna di 92 anni, ritrovata senza vita in un appartamento di Via Montanara nel quartiere di Saione. Pare fosse già deceduta da circa due mesi. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ma è stata ritrovata solamente qualche giorno fa, dopo l'allarme lanciato dal proprietario di casa, preoccupato perché da settimane non vedeva nessuno dentro e almeno da luglio non era stato più pagato l'affitto. Ormai senza vita, anche il gatto della donna ha morto probabilmente ai distenti. In quell'appartamento, assieme all'anziana deceduta, viveva anche la figlia che gli agenti della squadra mobile guidati dal dirigente Davide Comito hanno subito cercato di contattare. L'ultimo avvistamento circa 15 giorni fa nella riviera Romagnola, nella zona di Rimini. In precedenza la figlia era stata avvistata anche a Perugia e Livorno. Per la sessantenne è stata diramata una nota di ricerca in tutta Italia. Gli investigatori al momento non escludono alcuno scenario. Intanto la procura di Arezzo ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziana. La morte sembrerebbe essere riconducibile a cause naturali. Non sono state infatti riscontrate tracce evidenti di violenza, ma la certezza potrà arrivare solo dall'accertamento.